La 58esima fiera del tartufo bianco di Acqualagna era partita col botto attraverso la visita istituzionale del presidente del consiglio Giorgia Meloni e proseguirà fino a sabato 11 e domenica 12 novembre. Nel mezzo un weekend altrettanto partecipato, dove nel borgo ammantato dalla Roma del prezioso tubero, è andata in scena la prima gara nazionale delle città del tartufo con la proposta culinaria dello chef Paolo Fiaschi che ha visto vincere la città pisana di San Mignato. Come involgevano questa sfida le città di Alba, San Mignato, Acqualagna, Mandola, Gubbio, Isernia, quindi città molto importanti per l'obiettivo è promuovere un territorio, promuovere il tartufo che è un prodotto d'eccellenza per tutta l'Italia. Dalla terra del tartufo di Alba alla terra del tartufo di Acqualagna, protagonista del sabato è stata anche la presenza del fondatore di Italy, Oscar Farinetti, che ha presentato il suo libro Dieci mosse per affrontare il futuro. Il turismo legato al cibo in Italia ha un senso enorme, probabilmente è il primo asset insieme all'arte chiaramente e ai nostri 59 patrimoni dell'UNESCO. Bisogna che i territori leghino sempre il loro prodotto d'eccellenza da mangiare, nel vostro caso il tartufo che è the king, con i vini, vini e tartufo, vini e tartufo. Come facciamo noi ad Alba da una vita, col Barolo, il Barbaresco e il tartufo, ha avuto un successo enorme. Voi avete la fortuna di avere dei vini strepitosi, Verdicchio, Bianchello, altri vini e dovete fare gli abbinamenti. Funziona e funzionerà sempre di più. Acqualagna oggi è considerato insieme ad Alba il tartufo più prestigioso d'Italia. Dovete mantenere questa connotazione di Acqualagna caricandoci sopra delle storie tipiche di questo paese, perché la grande scommessa è la narrazione. Il prodotto c'è, va narrato bene. Protagonista assoluto però è sempre il prodotto, a cominciare da pepite da record, come quelle cavate in apertura di fiera da Stefania Tofani, di 1,20 kg, e di Giancarlo Marini, da 7 etti. Un tartufo da 1,20 kg ed è venuto proprio per l'inaugurazione della fiera, quindi ha fatto anche da volano un po' alla fiera stessa, dai, siamo contenti per quello. Dai tartufi record a quelli standard che hanno convissuto con una stagione di effetti climatici ondivaghi. Abbiamo avuto un mese di ottobre con grosse difficoltà, con un prodotto anche non di alta qualità perché si conserva poco, quando le temperature sono alte il tartufo si conserva 3-4 giorni. Ora con l'abbassamento delle temperature abbiamo un tartufo di maggior qualità e anche un prezzo inferiore rispetto ai primi di ottobre, quindi stiamo andando verso una stagione migliore. E abbiamo anche dei prezzi abbastanza popolari diciamo perché da 150 letto a salire 200-250, però ecco non raggiungiamo i prezzi dell'anno scorso che erano proibitivi. La ristorazione fa la parte del leone nel consumo dei tartufi. Qui nel centro Italia abbiamo per fortuna una ristorazione che adopera tartufi piccoli, che costano un po' di meno, che fanno partire il piatto tartufato dalla cucina. Mentre al nord c'è la cultura di servire il tartufo al tavolo, ma servire il tartufo al tavolo significa portare dei tartufi di grande dimensione che costano di più. Io ribadisco per l'ennesima volta che non c'è differenza di qualità tra un tartufo piccolo e un tartufo grosso, quindi io do un consiglio a tutti quando si tratta di comprare dei tartufi per mangiare con amici o in famiglia, di puntare decisamente ai tartufi piccoli che costano quasi la metà e sono identici a quelli grandi. Grazie per la visione!